Ieri l'incontro con Bertolaso, la visita a diversi impianti dove poter promuovere questo progetto 100 per il 100 posti letto di terapia intensiva necessaria nella nostra regione per superare il picco che arriverà fra una decina di giorni e oggi notizia della positività di Guido Bertolaso. Ci siamo sentiti e il messaggio è il progetto va avanti, continuiamo a lavorarci, i tecnici continuano a analizzare quelli che sono schemi, progetti e continuiamo a chiedere agli imprenditori quel contributo indispensabile, non perché la regione non abbia i fondi propri ma per poter correre serve un'iniziativa di natura privata. Oggi i primi contatti, direi positivi e tante anche persone che hanno voluto dare un loro contributo. Io sono a casa mia in quarantena ma questo non mi impedisce di lavorare, anzi continuerò da qui il grande impegno che tutti si aspettano e che è necessario per un momento come questo. Quindi grandi iniziative quotidiane, attenzione nei confronti di quello che accade attorno a noi, il lavoro a favore di chi ha più bisogno, l'impegno di ognuno nel limitare il contagio, anche la quarantena è uno strumento per fare questo. Quindi continuiamo a lavorare con grande impegno e non ci ferma certo una quarantena.